oggi ho fatto questo pollo veramente a modo mio perché ho messo un filo d'olio nella teglia ho messo le coscette di pollo patate carote peperoni funghi avevo dei funghi da consumare le carote erano anche da consumare peperoni anche quindi ho fatto tutto misto tanti aromi rosmarino basilico alloro e origano anche ho messo sale e pepe olio un filo di olio mezzo bicchiere di vino bianco secco e mezzo bicchiere di acqua e informerò nel forno a 180 gradi vedremo quanti minuti ma credo una buona tre quarti d'ora 45 minuti circa credo ve lo dirò dopo quando furono la prova passaggio